La minaccia degli incendi boschivi non conosce confini e nel solo 2017 in Europa sono andati in fumo 700.000 ettari di bosco con 100 vittime. La Toscana è in prima linea e in un convegno internazionale in regione organizzato con la fondazione spagnola Pau Costa ha riunito esperti da altre regioni ma anche da Spagna, Irlanda del Nord, Scozia e Nuovo Galles. Obiettivo fare prevenzione dopo un 2017 che ha visto andare in fumo in Toscana 885 ettari di bosco perché gli incendi si possono anche evitare. Il 50% circa sono incendi dolosi e quindi lì dobbiamo lavorare con i carabinieri forestali per lavorare meglio nell'individuazione di chi potrebbero essere i soggetti che hanno certi interessi. L'altro 50% sono incendi colposi. Tra 2007 e 2017 in Toscana 5.000 incendi hanno distrutto 8.200 ettari di bosco, poco meno di 2 ettari a incendio sotto la media nazionale, merito della preparazione garantita dal centro addestramento di Monticiano e dei 4.700 operatori tra volontari e non sempre pronti. Da poco poi la regione ha modificato la legge forestale. Noi abbiamo modificato la legge 39 introducendo le comunità del bosco che vuol dire pubblico e privato e società civile quindi un percorso di gestione a tutto tondo in questo ambito e abbiamo inserito anche capitoli che riguardano la prevenzione. Prevenzione per garantire anzitutto la sicurezza dei cittadini e di chi gli incendi li spegne ma anche per limitare i costi. Ogni ettaro di bosco spento costa 6.000 euro.